Capitolo 13 signori, vittime. Come sapete, come ho già detto, in questo gioco ci sono 15 capitoli e quindi ci avviciniamo alla fine. Eravamo in una situazione abbastanza difficile perché avevamo appena finito una corsa, come il capitolo precedente, inseguiti da un ragno gigante, ragazzi. E Kidman si era schiantata con l'autobus, quello in cui eravamo. Adesso vediamo. Purtroppo questo qui, ragazzi, non è in live perché è uno dei file, dei tanti file danneggiati, ma i prossimi due, ovvero il capitolo 14 e il capitolo 15, quindi quello prima del finale e quello finale, saranno in live. Quindi per fortuna almeno gli ultimi due capitoli saranno live. Comunque, questo è un capitolo complicato, ragazzi. Vi metto allerta ed è un capitolo che, fortunatamente, questa volta devo dirlo, ho giocato senza la registrazione. Perché senza, perché col pensiero della registrazione questo capitolo sarebbe stato veramente, veramente molto complicato. È un capitolo da fare quasi al 100% in stealth e voi sapete che ho qualche problema. Perché ci sono dei figli di puttana, dei mostri qui, che ti mettono, ti riempiono il cammino, diciamo, di trappole. E quindi devi stare attento, devi stare attento ai tuoi movimenti, a qualunque movimento tu faccia, perché da una parte ci potrebbe essere una trappola o potrebbe sbocarti fuori un mostro all'improvviso che non ti attacca ma che se fai casino o comunque sei invisibile ti nota e quindi ti parte lo scontro. E devo dire che me la sono cavata proprio per il fatto che non c'è stata la registrazione, sono sincero. Sì, quella è la metropolitana. Sempre idee magnifiche. Bello vedere come io mi faccio il culo e te Joseph veramente zero, niente. Lui, lui arriva ed ha già fatto tutto, non incontra mai nessuno, io mi faccio il culo. Allora, scendiamo per questa scala. Sopra un ascensore, non è molto sicura la faccenda. E di fatti, vai a me serve, Sebastian, te sei sempre miracolato. O cadi di faccia, o cadi di culo, ma comunque ti va bene, non ti fai mai niente. Certo, ci vediamo di sotto, tanto non incontri mai nessuno, vero? Stronzo, non è possibile. Comunque ci vediamo di sotto. E come dicevo... E come si sente... C'è un sottofondo, ragazzi, che dovremmo conoscere. Il movimento di un nemico di questo gioco. Sì, l'avete visto. Il custode lo rincontriamo. Abbiamo rincontrato parecchi nemici in questo gioco. Il primo con la motosega, la donna ragno più di una volta. E il custode. Il custode che, devo dire, è abbastanza... Abbastanza ansioso, ti mette parecchia ansia addosso. Eh, ci sta, è il suo ruolo. Credo sia il ruolo di tutti i personaggi di Zeve, lui, Thin. Comunque, ragazzi, spero che... Per quei pochi che lo stanno veramente guardando, spero vivamente che almeno vi sia piaciuto. So che purtroppo ho avuto davvero tanti problemi in questa serie. Eh, però spero che qualcuno di voi apprezzi veramente l'impegno. Credetemi, non è facile. E qua intanto si notano le mie abilità da stealth, ben signori. Qui li attacco tutti da dietro. Incredibile. Mai stato così stealth? Mai. Se mi conoscete da parecchio, mai siete così stealth? Qua è presente anche il fratello di Ruvik. Io cerco di prenderlo in maniera stealth, ma è inafferrabile. Quindi qui si va proprio di cazzotti, giù di pugni. E mi raccomando, potete picchiarlo, basta che non si trasformi in questo modo. Se vuoi continuare a colpirlo, lui non si trasformerà. E nel momento stesso in cui cade, voi fate una bella cosa. Tirate fuori un fiammifero e lo bruciate. Così. Tutto molto semplice. L'importante è che non gli fate completare quell'urlo che aveva iniziato a fare. E qui ragazzi c'è una scena che suppongo non mi dimenticherò mai. Ne sono convinto. Mentre giocavo ho avuto veramente il terrore. Ma il terrore è vero e proprio. Si sentiva questo rumore che appunto ricorda il custode. Io ero preso, ero veramente preso a togliere tutte le trappole. Poi ho pensato, ma non è che il custode è qui, a destra. E infatti è quello lì. Cosa fa? Lui si alza. Mi viene incontro e io scappo. Scappo perché, cioè, ragazzi. Guardate. Ero lì un secondo fa. Sarebbe stato una fine veramente brutta per quanto mi riguarda. In ogni caso. Qui, anche qui c'era una trappola. Guardate quanto, guardate come li nascondono bene. Per quello che dico che bisogna essere stealth in questo capitolo. Perché se no veramente non ce la fai. Rischi veramente di perdere della vita inutile. Di farti notare proprio perché fai partire le trappole. E una cosa importante è questo acido che cola. Questo acido che cola ti one shot. Per usare dei termini un po' di sparatutto. No, ti uccide ovviamente al solo contatto. Al solo e unico contatto. Quindi se voi ci passate sotto non è che vi toglie metà vita. No. Vi ammazza subito. Proseguendo. Lì si sarebbe lo schianto dell'autobus. Ci dovrebbe essere Kidman anche. Ma ovviamente per complicarci la vita. E per allungare un po'. Kidman non si trova. Chissà dove è andato Joseph. Questa è la domanda che mi sono posto. E che vi sarete posti anche voi. Joseph. Ma da dove è passato Joseph? Perché io sto facendo questa strada. Quando Joseph magari sta. Non so. Sta passando dal tetto. Che è intero e non c'è nessuno. Comunque. Qui presenza. La classica presenza che abbiamo già incontrato. Che tecnicamente dovrebbe spiegarci qualcosa. Il custode. Quanto è vero. Buonasera. Signorina. Sia onesta. Sto imparato. Se vuole sopravvivere. Deve scegliere di chi vi assi. La mia donna delle polizie è veramente veramente molto onesta. Ma soprattutto. Ho una paura fottuta che mi sparisca davanti agli occhi. Questo è stato la paura da inizio gioco. Il fatto che lei fosse sempre lì. La possibilità di non trovarla più lì. Mi ha sempre spaventato. Sono sincero ragazzi. Ormai ci siamo affezionati tutti. Alla donna delle polizie. Non si può fare. Non si può fare altro. Questa scena. Questa scena è epica ragazzi. Questa scena è epica. Epica perché. Uno fa tutte le cose piano piano. Con stelle. Guardate. Mi sono anche girato. Per vedere cosa c'era alle mie spalle. Cosa che non avrei mai fatto. Ma poi là ci sono questi nemici. Con le bombe. Che si girano all'improvviso. E ti esplodono addosso. Poi cosa succede? Pensi che sia finita? Invece no. Perché te ne spuntano dal di dietro. Da non si sa dove. E quindi. Te passi più. Più tempo con la faccia per terra. In questo corridoio. Che. Impiedi magari. Con. Non so. Tua moglie. Completamente a caso. E riguarda un po'. Vabbè. A volte è meglio commentare sotto. Perché ti rivedi. E dici. Madonna. Ma come si fa? Ma questa è stata una scena veramente. Non dico. Sì. Quasi imbarazzante. Sono sincero. Quasi imbarazzante. Tre bombe così. Papapapapam. Morto quasi. Mi hanno tolto tutta la vita. Con tre bombe. Diciamo che questo capitolo è all'insegna del. Della trappola. Dell'inganno. Bisogna veramente fare molta attenzione. Anche perché le sorprese. Non sono assolutamente finite. La fortuna è che ti danno. Parecchi componenti. Mi sono d'accordo che danno molti componenti. per fare i dardi della balestra. Ok. Qua nella fogna. Qua nella fogna. Nel condotto dell'aria. Dove finiamo? Sembrano tipo. La cucina di una mensa. Oddio. Madonna. Mi hai fatto spaventare. Calciando quel barattolo. Mi hai. Mi hai fatto spaventare. Oh Joseph. Guarda un po'. A chi spari fratello. Per la prima volta. sei inseguito. Quindi di lì. Era meglio. Farsi inseguire da tutti gli altri. Oddio. E qui. Ruvik. Ci tende. Un bel trappolozzo. Come ha detto il tipo di prima. E lui. Che mette le trappole. Ma qua parliamo. Di un vero e proprio. Non dico labirinto. Perché è veramente. Non è complicatissimo. Però ha una specie di percorso a ostacoli. Dove in ogni punto. C'è praticamente. Un modo per ucciderti diverso. Diciamo così. Tra fiamme. Spuntoni che salgo. Che spuntano lateralmente. O dall'alto. E' tosta. In più ci sono anche questi. Robottini da cucina. Scusate. Da pulizia. Che nel caso ti prendono. Ti tolgono della. Ti tolgono della life. Questi sombrano. Tipo quei classici. Robottini che. Che spassano. Esatto. Vedete. Perfetto. Solo quelli che spassano. Ti possono anche colpire. Costantemente. Ma non ti fanno niente. Questi invece. Ti tolgono. Ti tolgono la vita. Comunque abbastanza. A parte questo fail gigantesco. Non è. Non è molto complicata. Come faccenda. Basterà stare lenti. Ma soprattutto. Bisognerà fare lenti. Essere lenti. Scusate. Non mi vengono le parole. I verbi. Bisognerà essere lenti. Ma soprattutto stare bassi. Bisognerà ragionare un attimo. Porca puttana. Ale. Vedete. E' un attimo. E' un attimo. Mi prende una cosa. Fate un passo avanti. Esplodete. Quattro volte. E poi rischiate. La vita. E qui. Grandissima scena. Perché Joseph. Ovviamente riesce a scappare. Ma c'è il custode. E ovviamente. Noi siamo entrati. In quella stanza. Un altro scontro con il custode. Non preoccupiamoci. Non preoccupiamoci perché. Mamma mia. Però ragazzi. Fa veramente spavento. Fa veramente spavento. Minchia. Più debole. Della prima volta. O siamo noi più forti. In ogni caso. Dopo. Spunteranno. Spunterà di nuovo. Un altro custode. Credo spunterebbe. All'infinito. Ma noi abbiamo la possibilità. Di scappare. Qua dentro. Questa scensore. Dove si è nascosto. Prima Joseph. Per fortuna. Ragazzi. Ma per fortuna. Ma. Questo posto. L'ho trovato per fortuna. Perché io sarei stato capace. Tranquillamente. Di restare lì. A uccidere. Tutti e sette. I custodi. Che ci sarebbero stati. Randomicamente. Nel gioco. E invece. No. Fortunatamente. Dopo. Ho trovato. Quell'uscita. Si va giù. Per l'ascensore. Ah. Lo so. Che dobbiamo trovare Kidman. Sebastian. Ecco. La Kidman. Come al solito. Sta benissimo. C'è con lui. Il piscialletto. Il piscione. Andiamo a prenderla allora. Cazzin. Ma guarda. Se prendi un treno. Chi sa dove ti infili. Mi proteggerai. Certo. Si. E' vero. E' vero. Quando arriverò a casa. Saranno. Sorpresi. Cosa succede? Guarda come lo proteggi. Mi dispiace. Fermati. Tu non capisci. Non sai cosa diventerà. Oh sì. L'ho visto. Ma non sai ciò che Ruvik vuole? Dimmelo tu. Che cosa vuole? Kidman. Lui vuole la... Si è circondata. Cosa? Vuole finire il suo esperimento. Non fare il moralismo. Ho degli ordini. Non posso lasciare che lo prenda. E dai. Leslie è il solo che può. Ah però. Urlino proprio così. Tanto alla fine l'esito riesce sempre a scappare. Joseph. Madonna. Joseph. Mamma mia ragazzi. Questo gioco è veramente disturbato. E come al solito cadiamo di faccia. E così si conclude anche il capitolo 13. di ritù. Grazie.